ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi in questo video voglio farvi vedere una cagata si può dire cagata credo di sì una di quelle cavolate che si comprano nei momenti di acquisto compulsivo su queste app dove tutto costa pochissimo nello specifico oggi vi faccio vedere un oggetto che ho preso su temo credo si trovi anche su aliexpress e sicuramente qualche altro sito di roba che arriva dalla cina non vuole essere un video che promuove temo assolutamente anzi apro una parentesi temo mi ha contattato tante volte offrendomi quintalate di roba per fare dei video ma ho sempre rifiutato perché ci tengo a portare roba di qualità sul canale non ho non ho bisogno che temo mi regali due o trecento euro di materiale che tra l'altro poi non mi servirebbe a nulla chiusa parentesi un oggettino questo che però ho visto in un'immagine ho visto cos'era e ho detto porca miseria ma questo mi potrebbe servire un casino che cos'è ve l'avevo fatto vedere in una diretta cercando di farvi indovinare nessuno ci è arrivato è una specie di sicura con possibilità di mettere il lucchetto per gli interruttori nei quadri elettrici l'ho pagato pochi euro vi faccio vedere l'oggetto poi comunque vi lascio il link in descrizione ma se lo trovate da altre parti anche a meno tanto è sempre quello praticamente è un cosino di plastica con due graffette in acciaio si monta sugli interruttori da barradine nei quadri magnetotermici differenziali va bene su tutti i dispositivi che siano a un modulo 234 non importa tanto lui va a prendere nello spazio di un modulo dove c'è la cerniera del meccanismo che sale e scende e va a dare questo blocco è una roba di plastica ok vi farò vedere come si monta e tutto ma è chiaro che ci va nulla a spaccarla forzarla e ad azionare lo stesso l'interruttore però è molto utile perché tante volte mi capita magari in cantieri in corso di lasciare un interruttore giù per un determinato motivo magari con un pezzo di scotch e magari segnalato ma puntualmente qualcuno va e lo tira su ok che questo si rompe facilmente però se lo vuoi rompere perché comunque devi fare una cosa allora lo fai ma poi rimane anche il segno invece lasciare un interruttore con un pezzo di scotch un avviso eccetera è più semplice che qualcuno che non sa cosa fare va a tirarlo su o al contrario tirarlo giù con questo aggeggio qua rimane montato con un lucchettino con scritto attenzione quindi voglio dire ce la fai no a capire che non devi proprio smontarlo e tirarlo su e l'ho trovato molto carino comunque adesso ve lo faccio vedere vi faccio vedere come si monta ripeto una cavolata però secondo me a qualcuno può tornare utile prima di andare avanti iscriviti al canale che anche quello non è che costa poco è proprio gratis ma mi aiutereste a far crescere il canale perfetto questo è il nostro blocco il pezzetto di plastica si tira su così vedete quando è tirato su quando è libero permette a queste due bollette d'acciaio di muoversi quando lo blocchiamo rimangono tirate non si possono stringere e soprattutto tutta questa conformazione va a fare il blocco sull'interruttore non è un pezzo in stampa 3d è una fusione ha una sua robustezza c'è già l'adesivo col simbolo di pericolo non operare però ecco insomma non so quanto tempo può durare sempre comunque un pezzo di plastica però le mollette d'acciaio sembrano insomma abbastanza resistenti sono puntate qua dentro se togliamo l'adesivo possono uscire fuori come funziona vedete che qui dentro qui dove c'è questo foro qui dentro c'è quella zigrinatura quindi una volta che noi lo liberiamo queste due mollette devono entrare esattamente qua dentro voilà entra là dentro poi cosa facciamo lo blocchiamo in questo modo lui le tira e non ci dà la possibilità di tirare su l'interruttore attenzione quando sbloccate a tenere la base liberate le mollette le chiudete un po e poi esce fuori chiaramente funziona allo stesso modo anche al contrario vedete se dovete però tirarlo giù quindi deve essere armato prima incastrate le mollette nel foro vanno in posizione blocchiamo la nostra leva va a fare pressione e non ci permette di disattivare l'interruttore chiaramente una volta montato procurandovi un lucchettino molto piccolo come questo potete evitare che venga sganciato questa cosa la potete fare su un interruttore singolo su un interruttore doppio utilizzando solo uno dei due canali o anche su un interruttore ad esempio quadripolare perché il canale centrale dove mettere le due mollette c'è sempre quindi riuscite comunque a mettere dentro le due mollette si agganciano lo chiudete e non permette di tirare su l'interruttore è una cosa semplicissima ma tra virgolette quasi geniale poi chiaramente ne esisteranno altri già in commercio fatti in altri modi magari anche più professionali ma mi faceva piacere condividere con voi questa piccola scoperta adesso vi faccio vedere realmente come si presenta in un quadro elettrico ok quindi in un quadro elettrico come questo che comunque ha poco spazio all'interno dello sportello noi tiriamo giù l'interruttore arriviamo col nostro blocco lo chiudiamo prendiamo un lucchettino lo inseriamo nel foro facciamo la chiusura anche del lucchettino estraiamo la chiave e vedete che abbiamo comunque lo spazio per chiudere viceversa possiamo tranquillamente anche fare l'operazione al contrario quindi arrivare sbloccarlo in tutta facilità sganciare le due mollette possiamo in questo modo armare operare sull'interruttore quindi questo oggettino che non so bene come chiamare anzi devo ancora trovare un titolo per il video vediamo se mi viene in mente qualcosa di accattivante a me è piaciuto un sacco ne ho ordinati una decina perché verosimilmente non sarà eterno e comunque di plastica si romperà o magari me lo spaccano o lo perdo o mi chiedono di lasciarlo quindi ne ho presi un po' da tenere nel furgone perché secondo me è una cosetta simpatica economica che però può dare un aiuto importante facendo ripeto anche bella figura perché si vede proprio una cosa montata nel quadro solo ho trovato una piccola anomalia ma non sua ho visto che nei vecchi interruttori che magari hanno già qualche anno e la plastica è un po' secca fate attenzione perché quando agganciate queste due graffette metalliche dentro la plastichina col foro si potrebbe scassare è un problema dell'interruttore che comunque ci sta mandando un chiaro segnale che magari ora di sostituirlo questo è tutto se vi è piaciuto questo breve video un bel like ci vediamo al prossimo video prossima diretta del giovedì sera se passate negozio da torino ci prendiamo un caffè grazie a tutti ciao da massi dattoli grazie a tutti